La procura di Milano ha chiesto il processo per la nota cantante Gianna Nannini, accusata di un'evasione fiscale di 3.750.000 euro. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata il mese scorso dal pubblico ministero di Milano, scudere titolare di un'indagine che lo scorso aprile ha portato i militari del nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle a sequestrare la villa della cantante. Per il legale della Nannini non c'è nessuna evasione ed i documenti lo provano. Giulia Buongiorno dice che la difesa è entrata in possesso di una documentazione decisiva capace di provare che non c'è stata nessuna evasione da parte della cantante.